Buongiorno a tutti, sono Paola Molfino, soprano genovese. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare il maestro Kotezu e la Tokyo Opera per avermi dato l'opportunità di esibirmi davanti al pubblico del web. In questo momento così difficile e doloroso ritengo che sia fondamentale l'apporto della musica per sollevare gli anni e mi auguro che presto potremo esibirci nuovamente insieme dal vivo e davanti a un grande pubblico. Grazie per l'ascolto e buona giornata. Grazie per l'ascolto e buona giornata. Grazie per l'ascolto e buona giornata. Iso è DCIWATTAKESI DEI. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.